Ciao ragazzi, oggi siamo in un nuovo video di FIFA, oggi siamo qui per provare Christian Eriksen che è veramente forte, attenzione, De Paul di nuovo Eriksen che ragazzi fa dei passaggi lunghi veramente che nessuno li sa fare così, infatti guarda già ha praticamente messo anche la porta in signo che la passa sempre a Palazzo però sbaglia Pepe, la passa a Connolin, Ings, secondo me comunque ragazzi questo Eriksen è veramente forte perché è pure veloce Eriksen è quello nuovo riuscito della nazionale, uomo partita nazionale che secondo me è veramente forte Attenzione qua il tiro di Ings, mi pare che era quello, perché la velocità è buona, passaggi perfetti e magari un potenzialmente la velocità è perfetta in questo caso di Eriksen poi passaggi perfetti, tiro abbastanza buono e anche difesa che non è male si può mettere centrocampista nel 4-3-3 e comunque il vestito è magari un po' meno più difensivo Gostens, la passa a Palazzo, fallo sul Palazzo, questo è da giallo o anche dal rosso però l'arbitro preferito del regno di giallo Eriksen, la passa a Lorenzo Insigne, c'è Palazzo, 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 Val Rodrigo Palazzo che riporta in vantaggio la mia squadra Che è questo qua? Pepe Pepe contro il Romero, contro Dalot che è stato messo in una nuova posizione Pepe va al tocco sotto Fortunato un po' la mia squadra perché ha preso la traversa proprio nell'incrocio di Moverner con Nulli Viene marcato da un grande Romero che riesce a marcarlo E attenzione al centro c'è Pepe con Nulli Con, con, vabbè E la passa a Sanchez E Derick viene fermato dal Papu Gomez E la passa a Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne come se li salta Lorenzo, 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 Lorenzo Lorenzo è sul centro Palazzo Rodrigo Palazzo E ora si va avanti di due Rodrigo Palazzo E' gol Eriksen va con sé anche un po' più avanzato magari come Centro cambista offensivo per fare più gol e molti assist Perché per quel punto ne fa veramente tanti Perché pure un mentiro è un passaggio Però da me ne fa pure molti assist Comunque, forse mi sentirete una canzone sotto per il mio Guarda ragazzi, la parata del difensore è quasi stata praticamente Attenzione al centro c'è Lorenzo Insigne La passa da Kraft a Kimi A Kimi A Kimi Attenzione se ne vanno, lo riprendono più, si supera Sondo, non avevo capito chi era quello Lagga, attenzione a Kimi, va al tiro La paratona e ora ci saranno un po' di cambi nella mia squadra Ora infatti vi voglio vedere come Eriksen è già Perché io gioco il 5-3-2 Per preferenze mie E anche per mettere Eriksen nella posizione che mi piace E nelle tattiche mi piace, però in questo caso Eriksen lo voglio mettere un po' più avanzato Per farvi vedere un pochino anche il tiro, velocità, dribbling Comunque anche il dribbling non è male E il fisico neanche troppo male Quindi qua voglio provare a fare golle al ciò d'angolo Attenzione a Eriksen al centro Oh vabbè Questo è difficile Non lo so fare però ci provo ogni tanto Ings gli la passa a questo Romero intercetta Papu Gomez La passa a Palasico La passa a Muriel La passa a Cristian Eriksen L'avete visto pure gli inserimenti Tutto buono Questo è veramente una carta Veramente una carta Veramente una carta molto forte E vabbè Ragazzi il video finisce qui Anche se la partita non è finita Però praticamente questo qui sembra aver quittato Quindi il video finisce qui Ci vediamo nel prossimo video Ragazzi mi raccomando iscrivetevi con campanella Lasciate like Iscrivetevi con campanella Lasciate like Queste cose qua E ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi